Buongiorno a tutti i gentili telespettatori di Toscana TV e Firenze TV, ben trovati a Refresh, dalla segna stampa di oggi, i titoli dei quotidiani in edicola, è giovedì 13 aprile 2023, buona giornata da Andrea Vignolini, siamo pronti in questa prima parte di trasmissione per leggere assieme i titoli di oggi sulle prime pagine dei quotidiani. Partiamo dal Corriere della Sera, all'apertura il presidente cinese Jinping, pronti a combattere, allarme a Taiwan, il video shock degli ucraini, decapitati dai russi, Ucraina e Taiwan, sono questi due fronti ovviamente geopolitici molto caldi, 8 mila chilometri di distanza, ma scenari di guerra, in Ucraina si combatte da oltre un anno con migliaia di morti e feriti, e ora spunta un video nel quale si vede un ucraino decapitato dai russi, nel mar cinese la tensione tra Pechino e Taiwan sale di ora in ora con il presidente cinese Jinping che dice prepariamoci a combattimenti veri. Ancora Federico Rampini spiega nell'articolo ovviamente di commento, Pechino, gli scenari, ma una guerra è possibile? Quali sono le intenzioni di Jinping e quanto è probabile la guerra? La sua tensione sale perché la sua Cina è sempre più nazionalista e vuole diventare la potenza dominante in Asia. A centropagina poi la notizia che riguarda invece la politica italiana, le nomine dopo le tensioni, Meloni, Scegli e Cingolani per Leonardo, gli alleati la spuntano su Scaroni e Cattaneo a Enel, due donne ai vertici di Foggia e Rovere per quanto riguarda ovviamente Terna e Poste Italiane, confermate Descalzi e Delfante, il caso Donnarumma spiega il quotidiano Il Corriere della Sera. E poi vedete il ministro dell'economia, la partita doppia di Giorgetti tra Lega e Premier, ha mantenuto un basso profilo il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, si è mosso senza fare troppo rumore in questa tornata di nomine, attento a mantenere gli equilibri tra la Lega e la Premier con un occhio agli investitori esteri. Poi a centro pagina la fotonotizia che riguarda il Milan che batte il Napoli anche in Champions, la rete di Ben Nasser, i rossoneri vincono 1-0, martedì la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Andiamo avanti ancora sempre con le prime pagine del giorno, lo facciamo anche con la prima pagina del quotidiano La Repubblica che ci porta ovviamente al titolo della giornata, l'apertura riguarda ovviamente la politica estera, ma con il fronte della guerra in Ucraina e in particolare i leaks che agitano l'Europa. Tra i dossier militari degli Stati Uniti finiti in rete, la posizione di 38 paesi sulla fornitura di armi a Kiev, c'è anche l'Italia. Caccia alla talpa del Pentagono, gli alleati di Washington minacciano conseguenze nella cooperazione di Intelligence, il padre della spia russa fuggita da Milano. Grazie a Putin e agli amici, così il quotidiano La Repubblica sulla prima pagina. Poi a centro pagina l'Orsa che ha ucciso Andrea è recidiva, il Tar la lasciò libera. L'Orsa JJ4 intrappola nel 2020 dopo la prima aggressione, questo spiega il quotidiano La Repubblica. Che poi, nuovo lodo del garante, ChatGPT, può ripartire dunque per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, ChatGPT, la superintelligenza artificiale bloccata in Italia dal 31 marzo, potrebbe riaccendersi presto, a patto che in OpenAI, la società che l'ha creata, si adegui alle prescrizioni inviatele ieri dal garante per la privacy, primo assicurare trasparenza sull'utilizzo dei dati personali. E poi l'economia, il Fondo Monetario Internazionale, lo scudo dell'Italia, si chiama PNRR a proposito dell'economia e della salute dei conti pubblici. E poi ancora i quarti di Champions al Milan, la prima, 1-0 al Napoli, rimasto in 10, spiega La Repubblica sulla prima pagina di oggi. Andiamo anche sul quotidiano La Nazione con ovviamente i titoli del giorno, eccoci qua, Meloni media, alla fine ecco le nomine. Il ticket, Cattaneo Scaroni all'Enel, Eni, Poste e Leonardo secondo le attese, oggi tocca a Terna, di Foggia super favorita, la Premier vince la competenza, Descalzi, riconfermato ad Eni, parla al forum del quotidiano nazionale Lewis, non sono il kingmaker di nessuno. Poi a centro pagina, l'animale che ha ucciso il runner doveva essere eliminato mesi fa, Andrea Papi, il runner ucciso dall'orsa, aveva 26 anni, il taro ordinò non abbattete quell'orsa. E poi ancora con i richiami ovviamente in prima pagina del quotidiano La Nazione con le notizie che arrivano dalla Toscana, rifiuti e PNRR, via libera a 107 milioni di fondi per i progetti del riciclo. E poi a Grosseto, la tragedia di Pasqua, un'auto pirata ha ucciso il giovane Jabber, questo spiega La Nazione sulla prima pagina di oggi. Andiamo anche sulla prima pagina del quotidiano Il Tirreno, l'edizione è quella di Firenze, Prato e Empoli. Le notizie ovviamente principali della giornata, stadio verso il maxisconto per la concessione annuale. Firenze, imminente l'accordo per la stagione 2023-2024 tra Comune e Fiorentina. Poi siamo a centro pagina, investito in carrozzina e multato, Grosseto evita il marciapiede dissestato, un'auto lo urta, la colpa è sua. E poi ancora sempre sulla prima pagina del quotidiano Il Tirreno, con la notizia che arriva da Prato, striscione no gender al liceo. Il Livi Brunelleschi ha sostenuto la scelta della carriera alias. Prato perdona loro perché non sanno quello che fanno, questo lo striscione che è apparso ovviamente al Livi Brunelleschi. Andiamo avanti ancora con i titoli del giorno, lo facciamo con la prima pagina del giornale. Meloni accontenta tutti, poltrone di Stato sulle nomine, la premia rinuncia a fare la piglia tutto, soddisfatte Lega e Forza Italia, Cattaneo e Scaroni all'Enel, Descalzi resta all'Eni, Cingolani a Leonardo. Libero sulla prima pagina, 100 femministe contro la Schleina. Il titolo di apertura, un gruppo di donne scrive a Ellie, diciamo no all'utero in affitto. Il tema secondo Libero è questo nella giornata odierna. Andiamo anche al Fatto Quotidiano, il bavaglio Cartabia fa sparire delitti e indagini. Il rapporto dei cronisti lombardi non si sa più nulla. Vietato informare le notizie silenziate, due assassinati a Napoli, indagati Covid, Jesse e Weib travolte sulla 24. Queste sono alcune delle notizie ovviamente su cui c'è il massimo riservo e non si riesce a trovare dettagli. Siamo alla verità, il titolo di apertura, via libera alla Commissione, indagherà anche sui vaccini. Finalmente si parte e senza i paletti che la rendevano inutile. I vari Conte, Speranza, Draghi, Magrini e Brusaferro dovranno rispondere sul piano pandemico. Appalti dubbi, i Green Pass, obblighi vaccinali, PD e 5 Stelle tremano e protestano. Noi vogliamo la verità dopo tre anni di balle, spiega il quotidiano La Verità sulla prima pagina di oggi. Andiamo anche al Sole 24 Ore, siamo al tema dei contratti della pubblica amministrazione. Come spiega il Sole 24 Ore, servono 32 miliardi, questo per quanto riguarda il pubblico impiego. Intanto il costo del lavoro raddoppia il taglio al cuneo, ma il costo salirà a 10 miliardi nel 2024. A centro pagina un fiume di dollari alle start-up biotech per allungare la vita. E vedete, a proposito della cosiddetta bioinformatica, chi sono i protagonisti sulla prima pagina del quotidiano economico di oggi. Già adesso è il momento invece di ripercorrere tutto quello che è accaduto il 13 di aprile, grazie all'almanacco di oggi. Buona giornata con l'almanacco Barba Nera. Oggi è il 13 aprile, si ricorda San Martino I Papa. Il nome Martino, dal latino Martinus, significa piccolo Marte, quindi sacro a Marte e testimoni all'enorme popolarità del culto del dio della guerra presso gli antichi romani. Dice il proverbio, giudizio e quattrini non sono cugini. Sono nati oggi Thomas Jefferson, Antonio Meucci, Agostina Belli. Il 13 aprile 1895, a Bosco Reale, un paesino alle falde del Vesuvio, si ritrovano i resti della villa romana di Lucio e Regno Floro, sepolta dall'eruzione del 79. I reperti venduti all'asta alla morte dell'acquirente andranno al Museo del Louvre di Parigi. Il 13 aprile 1986, Papa Giovanni Paolo II visita la sinagoga di Roma e è la prima volta nella storia che un Papa entra in un tempio ibraico. Infine, il 13 aprile 2004, viene emesso negli Stati Uniti un franco bollo commemorativo di Harry Manzini, il compositore statunitense, figlio di immigrati italiani che firmò le musiche di oltre 100 film e vinse 4 Oscar. È l'autore di brani celeberrimi come Moon River o il tema della Pantera Rosa. Anthony De Mello ha detto, la felicità è la condizione naturale dei bambini piccoli, finché non vengono contaminati dalla stupidità della società e della cultura. Arrivederci da Barba Nera dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Ed eccoci qua con i titoli della rassegna stampa sportiva per chiudere questa prima parte di trasmissione. Siamo sul Corriere dello Sport Stadio, il titolo è Vola, Viola, Vola. 26 gol in 10 partite, apposano alle 21 per ipotecare la semifinale di Conference League. Nico e Cabral cercano una nona vittoria di fila in Conference Italiano. Troveremo un ambiente caldo, decisivo l'approccio per il LEC. La spinta di 40.000 tifosi, Amrabat, Milenkovic e Dodò, sono diffidati. Questo spiega il Corriere dello Sport Stadio. Poi ovviamente a centropagina, sempre il Corriere dello Sport Stadio, Ben Nasser, gol. Il Napoli c'è, decide il Maradona, quarti di Champions, primo round al Milan per 1-0. Andiamo anche sulla prima pagina invece della Gazzetta dello Sport con il titolo che celebra il trionfo del Milan sul Napoli. Lampo-Milan è il titolo di apertura, Ben Nasser, gol, ma che Napoli a San Siro, show da Champions, 1-0. Contraversa di Chier, Spalletti sfiora il pareggio in 10, Rosso d'Anguissà e attacca l'arbitro. Martedì il ritorno, Ancelotti con il suo Real Madrid, rifila il 2-0 al Chelsea. Semifinale, tutto in gioco, scrive Luigi Garlando nell'articolo di commento. Noi ci fermiamo qua dopo questa prima parte. Tra poco invece tutte le notizie all'interno dei giornali di oggi, notizie che ripercorreremo grazie ai servizi di Toscana TG e commenteremo insieme ai nostri ospiti. Restate con noi su Toscana TV e Firenze TV con Refresh. Esplorare nuovi territori, questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Astra ho scelto una vita senza sprechi, luce green da fonti rinnovabili, il calore naturale per la mia casa e fibra per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme. Ehi Astra, accendi la luce. Fede, pronta per una nuova sfida? Pronta! Dovrai chiudere gli scatoloni di un trasloco in un minuto 52,98. Come il new record? Via! Vinci come me le sfide di ogni giorno con Sustainium Plus. E la sua formula specifica a base di vitamine e complesso di amminoacidi. Sustainium Plus. Dai energia alla tua energia. E dopo i 50 anni, Sustainium Plus a 50 più con Actifull e Menarini. Pronta per la prossima sfida? Eh? L'azienda agricola Le Pescine alleva galline e produce uova fresche da oltre 30 anni. Uova prodotte da allevamento a terra, all'aperto, per avere la bontà in tavola ogni giorno. Nello splendido territorio di Poppi, azienda agricola Le Pescine. L'uovo del Casentino. L'uovo del Casentino. L'uovo del Casentino. Lo riconoscete, vero? Unicop Firenze. La più grande rete di supermercati della Toscana. Con oltre 100 punti vendita. Immaginate di farne parte, di lavorare qui per... Eh, scusa. Eh? Come? Guarda che Unicop Firenze è molto più di un supermercato. Ah, beh, certo. È una grande impresa cooperativa con 50 anni di storia, oltre un milione di soci e più di 8000 dipendenti. Ok, grazie del contributo. Ma oggi è importante anche lavorare per qualcuno che si impegni nella sostenibilità. E infatti... Infatti Unicop Firenze ha realizzato un intero bosco a Montopoli. Parliamo di oltre 3000 alberi, mica un orticello. Sì, ed è stata la prima grande impresa della distribuzione a togliere la plastica monouso dalle vendite. Ben due anni prima della direttiva europea. Lo sapevo. E che dire del sociale? Unicop Firenze... Con la fondazione Il Cuore Si Scioglie e collabora quotidianamente con oltre 200 associazioni del territorio per aiutare chi è in difficoltà. E com'è per chi ci lavora dentro? Beh, sappiate che Unicop Firenze... Unicop Firenze investe molto nelle competenze dei suoi collaboratori. Solo nel 2022 sono state realizzate oltre 220.000 ore di formazione, molte di queste con i metodi innovativi. Ok, però lasciate... Unicop Firenze è molto più di un supermercato. Hai capito? Hai capito? Hai capito? Hai capito? Va bene, stop! Fatemi finire! Se vuoi far parte di tutto questo, partecipa al Career Day. Due giornate in cui Unicop Firenze aprirà le porte per incontri, speech e colloqui mirati. Il 14 e il 15 aprile a Firenze. Com'era? Non potevi dirlo meglio. Ok, bene. Vado a iscrivermi. Buona giornata a tutti, gentili telespettatori di Toscana TV e Firenze TV. Ben trovati a Refresh. Le notizie di oggi le abbiamo già lette sulle prime pagine dei quotidiani. È giovedì 13 aprile 2023. Ben trovati da Andrea Vignolini. Adesso è il momento di leggere le notizie all'interno delle pagine dei giornali, notizie che ripercorreremo con i servizi di Toscana TV e commenteremo poi con i nostri ospiti. Intanto partiamo dalle nomine delle partecipate statali. A pagina 2 del Corriere della Sera si spiega nomine, braccio di ferro e intesa. Meloni, un lavoro di squadra. Cattaneo sarà l'amministratore delegato di Enel con Scaroni alla presidenza, confermato il ruolo di Descalzi. In realtà ci sono alcune conferme per quanto riguarda le partecipate statali. Partiamo da Enel dove la nomina amministratore delegato di Flavio Cattaneo è sicuramente una novità rispetto ai nomi che erano stati pubblicati sui quotidiani nei giorni scorsi. Diventa presidente invece di Enel Paolo Scaroni. Per Eni c'è la conferma dell'amministratore delegato Claudio Descalzi e poi il presidente sarà Giuseppe Daffarana Piacentino, 59 anni, militare dal 1981, dal maggio 2019 e comandante generale della Guardia di Finanza. In passato operato nei comandi delle Fiamme Gialle in Lombardia, Lazio, Veneto, Calabria, Sicilia. Dal 2016 al 2018 è stato capo di Stato Maggiore del Comando Generale. Per quanto riguarda invece Leonardo, l'amministratore delegato sarà Roberto Cingolani, fisico, 61 anni, ex direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, responsabile dell'innovazione tecnologica di Leonardo fino al 2021. Poi nominato ministro della transizione ecologica da Draghi. Da ottobre è stato consigliere per l'energia del governo Meloni. A titolo gratuito adesso diventa amministratore delegato di Leonardo. Presidente invece Stefano Pontecorvo. Mentre per quanto riguarda Poste Italiane, l'amministratore delegato viene confermato Matteo Delfante e presidente di Poste Italiane Silvia Rovere. Presidente di Asso Immobiliare, fondatrice nel 2020 della Società di Servizi Immobiliari Sensibile Capital, 52 anni. Cuneese ha lavorato per il gruppo Aedes, Rear SGM come direttore generale e Morgan Stanley, di cui è stato amministratore delegato e membro della Fondazione Res Pubblica. E poi Terna con Giuseppina Di Foggia, laurea in Ingegneria Elettronica, 53 anni, nominata Cavaliere del Lavoro nel 2021 e nel 2020. Ricopre la carica di AD e vicepresidente di Noca Italia. È stata appena nominata amministratore delegato di Terno. Mentre presidente di Terna diventa Igor De Blasio, amministratore delegato di Arexpo, la società che ha comprato le aree di Expo 2015. Milanese è membro del CDA della RAI in quota Lega dal 2018, diventa presidente di Terna. So proprio sulla nomina ovviamente di Giuseppina Di Foggia, vedete l'articolo di Diana Cavaicoli che spiega quella promessa mantenuta dalla leader, la prima manager e la sfida green. Con Terna l'ingresso nell'ambito Energy dopo una carriera nelle telecomunicazioni per ovviamente la nuova amministratrice delegata. E poi nel 2016 arrivò in Nokia, quattro anni dopo la nomina come AD della società. E poi ancora nel 2021 la nomina a Cavaliere del Lavoro per la sua attenzione ai temi dell'innovazione. Questa Giuseppina Di Foggia che prenderà il posto di Stefano Donnarumma, nominato amministratore delegato e direttore generale di Terna nel maggio del 2020. E poi vedete quello che è accaduto sul fronte politico. Un giorno di veti e ricomposizioni, poi il gioco di sponda tra Lega e Forza Italia. Contiene la Premier, il ruolo determinante di Gianni Letta per Forza Italia nelle trattative. La Premier e le scelte di Cingolani, Pontecorvo e Di Foggia, la prima donna di. Le alleati, Salvini soddisfatto per Cattaneo e De Biasio, Forza Italia per Scaroni, Descalzi e Delfante. Queste sono ovviamente le soddisfazioni reciproche di tutte. Poi le scelte sulle nomine sono frutto di un attento percorso di valutazione delle competenze e non delle appartenenze, spiega il Corriere della Sera, questo ovviamente secondo quello che trappela sulle valutazioni che ha fatto la Presidente Meloni. Siamo ovviamente alla questione che riguarda il documento di Economia e Finanza, i sindacati all'attacco sul DEF, avanti con la mobilitazione, parla anche Gentiloni che spiega PNRR sì alla terza rata e questo è un dato importante che arriverà a fine aprile. Landini della CGL, le risorse sono insufficienti, il fondo monetario, il debito migliora. 3 miliardi di taglio al cuneo fiscale, questa è la misura che ovviamente è contenuta in particolare nel DEF. Vedete, la riduzione del cuneo fiscale andrà a beneficio dei redditi medio-bassi, le risorse sono ricavate dall'aggiornamento sulle previsioni sui trend dell'economia italiana. Tra le principali decisioni del DEF c'è la rinuncia graduale ad alcune delle misure di politica fiscale utilizzate nel corso degli ultimi tre anni dai governi precedenti. È prevista una diminuzione graduale del deficit del debito della pubblica amministrazione nel rapporto al prodotto interno lordo del PIL. Dal DEF viene un sostegno alla ripresa all'economia italiana, ha volto a conseguire tassi di crescita del PIL e del benessere economico più elevati e poi è programmato un taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con reddito medio-bassi al fine di sostenere il potere di acquisto. E poi parla ovviamente Maurizio Leo, che è vice ministro dell'economia del governo Meloni, cuneo fiscale da maggior a doppia il taglio in busta paga. Per le riforme useremo anche le coperture che verranno dalla riduzione della spesa. Questo intervento è la prova dell'interesse che questo governo ha per il lavoro dipendente, spiega Leo questo nell'intervista al Corriere della Sera di oggi. Siamo alla politica con quello che accade nel terzo polo, accordo saltato per ora, Calenda così il partito unico non nasce, nuove accuse incrociate, Italia Viva ci chiedono di non fare più la Leopolda, questa sarebbe una richiesta avanzata da Calenda, il forzista Ruggeri con Renzi al riformista perché Ruggeri sarà di fatto il direttore responsabile del riformista. Poi ancora vedete al centro la storia dal miele agli stracci, la sindrome Albano e Romina sulla coppia Carlo Calenda e Matteo Renzi, elogi ai tempi del governo insieme, poi anni di stoccate. E dunque in questo momento però il partito unico del terzo polo non nasce, vedremo se ci sarà uno sbocco oppure no. Un altro neonato lasciato in ospedale, la bimba partorita in un capannone, Milano, la madre non l'ha dato un nome, il primario del Buzzi è sana e pesa 3 kg. Ieri una neonata venuta alla luce in un capannone alla periferia di Milano è stata lasciata all'ospedale Buzzi, i genitori non l'hanno riconosciuta. Solo pochi giorni fa, la mattina di Pasqua, un neonato è stato lasciato nella culla per la vita della clinica Mangiagale di Milano. Accanto a lui in una lettera, ciao mi chiamo Enea, sono nato in ospedale e sono super sano, così il quotidiano, il Corriere della Sera. Siamo ovviamente anche alle notizie di cronaca, le vicende che riguardano Alfredo Cospito, 55 anni, anarchico detenuto al 41 bis nel carcere di Opera contro il carcere duro da quasi 5 mesi e in sciopero della fame. Cospito ha ricominciato a mangiare ma non dice che lo sciopero è sospeso. La reazione della polizia pretenziaria all'anarchico deciderò cosa fare dopo la consulta del 18 aprile a Milano. Una scritta su di lui in un bagno del Tribunale, sperate che non muoia questa scritta apparsa appunto del Tribunale di Milano a proposito di Cospito. Ha ripreso ad alimentarsi, si nutre col brodo vegetale seguendo il piano alimentare indicato dal suo medico di fiducia. Andiamo avanti ancora con le notizie del giorno, lo facciamo anche con le pagine interne del quotidiano della Repubblica che ci porta all'ampia pagina degli esteri. E caccia alla talpa del Pentagono, guarderemo sotto ogni pietra. Il punto principale è capire la fuga dei documenti che sono finiti nelle mani dei russi. Documenti decisamente sensibili. L'intelligence americana passa al setaccio i nomi di tutti i funzionari che avevano accesso ai file finiti in rete. Gli alleati più vicini chiedono risposte e minacciano di sospendere la cooperazione tra l'agenzia di spionaggio. John Kirby, portavoce del Consiglio di Sicurezza per Nazionale Americano, ammette non sappiamo se in giro ci sono altri documenti. E poi invece quello che è accaduto ieri, i video dell'orrore, prigionieri ucraini decapitati al fronte. Circolano foto e video di decapitazioni di prigionieri di guerra ucraini fatte da combattenti russi. Prima un canale Telegram legato al gruppo Wagner ha pubblicato la foto di una testa mozzata e infilzata su una sbarra di ferro a Bakhmut, la città del Donbass dove i militari ucraini resistono da otto mesi all'assalto delle truppe di Mosca. Poi su altri canali Telegram in russo che glorificano l'invasione dell'Ucraina è apparso un video che mostra due soldati russi in passamontagna mentre decapitano un prigioniero di guerra con le mani legate. E proprio su questo ovviamente parla Zelensky che dice tutti devono reagire perché la Russia vuole che questa sia la nuova normalità. Anche Mosca però ha preso le distanze. E poi il punto principale invece ritorniamo alla questione dei leaks, cioè che tipo di documenti sono finiti nelle mani dei russi e quanti sono. I documenti rivelati vanno da slide di riunioni che mostrano le posizioni dell'esercito ucraino fino a valutazioni sul conflitto come ad esempio in quale caso Putin userebbe l'atomica. Non si sa con certezza quanti siano, l'Associated Press ne ha visionati una cinquantina ma sarebbero centinaia. Da dove provengono questi documenti? Non lo sa nemmeno nessuno, neanche il Pentagono, erano da qualche parte nelle web ma non sappiamo né dove né chi avesse accesso, ha detto il segretario della difesa Lyle Austin. Tutto sarebbe iniziato su Discord, piattaforma social popolare tra chi gioca a videogame. Un utente le avrebbe pubblicate in un forum sulla guerra in Ucraina. E poi dice che cosa è stato rivelato? Da documenti rivelati emerge quanto gli Stati Uniti munitino nei contatti tra gli alleati, la Russia e la Cina. Si parla anche di presunte spedizioni di razzi dell'Egitto a Mosca, delle esitazioni della Corea del Sud negli aiuti a Kiev, della chemio di Putin, di cosa potrebbe succedere a Zelensky se morisse. Come hanno regito gli Stati Uniti? Il Pentagono ha iniziato un'inchiesta interna per valutare l'impatto dei leak, delle rivelazioni, della sicurezza nazionale. Inoltre ha ridotto il numero di persone che hanno accesso alle riunioni, mentre il Dipartimento di Giustizia sta indagando sull'origine della diffusione. E poi siamo all'interno del quotidiano della Repubblica, pagina 4, il padre della spia ha fuggito a Mosca, grazie a Putin e ai nostri amici. Il video di Alexander Hus, governatore in Siberia, è di riferimento degli oligarchi. Sono contento che Artem sia tornato a casa. Il nostro paese può contare su persone che lo sostengono e sono pronte ad aiutare. L'ira del PD, il governo risponde. Lo scorso mese di ottobre Artem Hus viene fermato alla Malpensa in un'esecuzione di un mandato di cattura statunitense. Messo a domiciliare alla periferia di Milano, sparisce il 22 marzo all'indomani del Via Libera della magistratura all'estradizione negli USA. Il 4 aprile il faccendiere russo appare nella capitale russa dalla quale loda l'aiuto di persone forti e affidabili. Vedete ovviamente anche la vicenda della spia fuggita a Mosca. E poi ancora, sempre con le notizie che riguardano le nomine, sicuramente la nomina che fa in questo momento più discutere, perché è stata una sorpresa rispetto ai nomi che erano stati pubblicati sui quotidiani, quella di Flavio Cattaneo, che praticamente diventa amministratore delegato di Enel. Tanti ruoli di vertice in passato, dalla Rai a Telecom con Berlusconi e Prodi, è sempre la stagione di Cattario il manager che conquista i partiti. Il suo nome come amministratore delegato di Enel è stato suggerito da Salvini, con Scaroni alla presidenza ha sbloccato il waltzer di incarichi. Questo spiega il quotidiano La Repubblica. E poi siamo a pagina 8 con quello che accade all'interno del terzo polo, lite sui soldi e sulla Leopolda. Il terzo polo è già ai titoli di coda. fallisce il tentativo di tregua nell'ufficio politico, bisticcio sul mancato scioglimento di Italia Viva. Renzi, provocazioni, calenda. Ho finito la pazienza. L'ex premier pensa a un gruppo autonomo al Senato e a una nuova convention e intanto affida a un forzista il suo quotidiano. Per creare un nuovo gruppo al Senato gli manca un senatore, mentre intanto, per quanto riguarda il direttore responsabile riformista, sarà Andrea Ruggeri, ex deputato di Forza Italia. Parla in un'intervista oggi a Repubblica, pagina 12, Marcello Pera, ex presidente del Senato, che spiega che è Giorgia Meloni, l'erede di Berlusconi. Riuscirà dove lui ha fallito. Mi spaventano i cattolici conservatori, per i quali Putin è un baluardo. Non possiamo essere neutrali, ma vedo le distanze di Lega e Forza Italia. Una sinistra forte farebbe bene al suo governo. La fiamma nel medio periodo sarà tolta dal simbolo e la cosa non mi disturberà. Questo spiega Marcello Pera, ex presidente del Senato, intervistato da Stefano Cappellini, oggi su Repubblica. Andiamo avanti ancora con i titoli che riguardano ovviamente anche la cronaca. Siamo a pagina 19. Il caso stressati e infelici, quei baby atleti tenuti prigionieri dai loro club. Bulimia o attacchi di panico, gli ostacoli posti dalla società, a chi vuol cambiare team, per molti adolescenti sono un trauma. Si parla del cosiddetto ricatto del cartellino, il vincolo sportivo è l'obbligo per l'atleta di svolgere la sua attività in modo esclusivo per la società in cui è tesserato, a seconda dello sport e dell'età dura da 1 a 6 anni. In genere le società che concede il nulla osta ha diritto all'identità di addestramento, un corrispettivo per la fatica profusa per sviluppare le doti atletiche del suo tesserato. Nei casi denunciati all'associazione Change the Game, le società non hanno concesso indietro il tesserino perché non volevano che l'atleta andasse a praticare sport in un club rivale. E poi ancora l'associazione Change the Game ha raccolto 5 denunce in un mese. Questo è un tema sicuramente interessante. Siamo all'economia, Fitto in difesa sul PNRR, ereditate, ritardi e errori. La terza rata però arriverà a fine aprile. Il ministro risponde all'opposizione e conferma per utilizzare le risorse e progetti da correggere. Gentiloni da Washington rassicura sulla tranche da 19 miliardi. Il versamento ci sarà, spiega il ministro Fitto. Sbagliato non aver previsto i fondi per il funzionamento della sanità territoriale. Ancora avanti sempre con i titoli che riguardano ovviamente il quotidiano La Repubblica. Siamo al tema che riguarda i conti pubblici, in particolare il taglio del cuneo fiscale. Quali sono le ipotesi in campo? Con i 3 miliardi del DEF, benefici fino a 80 euro. Risorse che si aggiungono a quelle stanziate in finanziaria per i redditi meno bassi. Eccoci qua con la nuova ipotesi di taglio del cuneo contributivo per quanto riguarda i vantaggi per i lavoratori dipendenti. Per i redditi lordi, vedete, dal lavoro dipendente ci saranno guadagni netti mensili fino a 70 euro, da 43 a 70 euro, a seconda ovviamente del reddito lordo dal lavoro dipendente in base ovviamente a quelli che sono gli scaglioni come vengono ovviamente in questo momento presentati qua sul quotidiano La Repubblica. E poi siamo sul tema invece dell'intelligenza artificiale. Chat GPT può ripartire, ma il garante chiede più trasparenza. L'autority per la privacy è inviato nuove prescrizioni ad OpenAI. Su età, algoritmo e informazioni sensibili c'è tempo fino al 30 aprile. dunque Chat GPT potrà ripartire in Italia però facendo, diciamo così, adempiendo alle prescrizioni del garante per la privacy sul trattamento dei dati personali degli utenti. Siamo all'interno ovviamente del quotidiano La Nazione. Pagina 6, tasse e pensioni, documento di economia e finanza prudente, sindacati sul piede di guerra. CGL, CISL e Will pronte alla mobilitazione, risorse insufficienti per previdenza e riforma fiscale, ma la linea Meloni piace all'Europa. Quella del governo italiano è un'impostazione realistica e quindi questo per quanto riguarda ovviamente i contenuti del documento di economia e finanza. Poi oggi partono i test di medicina, resta il numero chiuso, eppure negli ospedali gli organici sono all'osso. Schillaci promette più iscritti, il limite di accesso sarà alzato del 30%. Oggi nuovi esami, rivolta dei giovani, violato il diritto allo studio. Il caso gettonistico Maxi Compensi, cosa sta succedendo in Corsia? Ma intanto ovviamente si chiamano, vedete, TalkMed, possono partecipare gli studenti iscritti all'ultimo, al penultimo anno delle scuole superiori italiane o estere, oltre ovviamente ai diplomati. Per i candidati sarà possibile tentare due volte il test, scegliendo poi il punteggio migliore per entrare in gradatoria nella sede preferita. Le due finestre in cui si terranno i test vanno da oggi al 22 aprile, poi successivamente dal 15 al 25 luglio. Gli iscritti alle prove sono in totale 79.356 per medicina e chirurgia e protesi dentaria. Gli iscritti sono 72.450. Andiamo avanti invece con quello che accade intanto sul fronte della salute e della sanità, in particolare ai medici di famiglia. La giungla dei medici di famiglia, troppi pazienti, cure impossibili. Il segretario della federazione, più assistiti abbiamo e più guadagniamo, ma così il servizio diventa scadente. L'Emilia Romagna fissa il tetto a 1.800 pazienti, ma in altre regioni c'è chi sfora. Servono altri 10.000 medici. Vedete le figure professionali che mancano, questo spiega molto bene il quotidiano della nazione di Colagi, 4.500 medici del pronto soccorso, 6.000 medici di medicina generali, 10.000 medici nei reparti ospedalieri, 50.000 medici in totale del Servizio Sanitario Nazionale entro il 2027 con i pensionamenti. Andiamo avanti ancora sempre con i titoli del giorno, siamo ovviamente ai temi che riguardano anche la tutela dell'ambiente, la difesa del suolo, frane e argini dei fiumi. Crescono le risorse contro il dissesto. La regione toscana, 100.060.000 dal PNRR, cantieri entro sette mesi, sull'Arno, intervento importante all'altezza del centro storico di Firenze, in provincia del redizzo di lavori, chiuderanno il post alluvione del 2019. E dunque i numeri, vedete per quanto riguarda i fondi che arrivano alla regione, 60 assegnati tramite il PNRR a 23 progetti, poi ci sono fondi Fesero per 30 milioni, 9 milioni assegnati dal Ministero delle Finanze ai Comuni. Il totale dei nuovi fondi, 99 milioni di euro. E poi siamo al tema che riguarda rifiuti, rifiuti ok, a 107 milioni dal PNRR, finanziati 49 progetti in Toscana, economia circolare, via libera, gli impianti che riciclano, dal tessile ai pannelli solari, a fine vita, altre proposte potrebbero avere il sì se non fossero state favorite regioni, con scarsa differenziata. E poi il futuro del termovalorizzatore, parla l'assessore Monia Monni, case passerini, spetta ai comuni la decisione. Questo spiega il quotidiano alla Nazione, riportando ovviamente le parole dell'assessore Monni. Siamo ai temi che riguardano i mutui, tassi ai massimi dal 2012, un variabile costa 3.240 euro in più. Banca Italia, a febbraio superato il tetto del 4%, depositi e prestiti in calo, l'allarme del Codacons, secondo le stime degli esperti, solo nella seconda metà dell'anno potrebbe esserci un'inversione di tendenza. Siamo sulla prima pagina del quotidiano alla Nazione di Firenze, il titolo di apertura, Scudo Verde e i timori dei sindaci, rinone tra i primi cittadini della metro città per bloccare l'ingresso dei veicoli a Firenze, serve un protocollo, a fine anno si parte con la sperimentazione per tutto il 2024, controlli ma per adesso senza multe e poi a centropagina un principe a spasso, Alberto di Monaco in visita a Firenze con Charlene per l'anniversario del Consolato, cena di gala a Palazzo Vecchio. Siamo all'interno del quotidiano alla Nazione invece con il modello Amsterdam, si parla della città e del turismo, un'app spalma visitatori, l'attrazione sold out, te ne consiglio un'altra. Roberta Garibaldi, esperta di flussi nelle città d'Ardia, si analizza il caso Firenze, serve programmazione, un'offerta alternativa per distribuire la ricchezza e questo potrebbe essere un utilizzo della tecnologia che consentirebbe appunto di indirizzare meglio i flussi turistici. Poi la sindrome di Stendhal, il potere della bellezza, la trasmissione di Rai3, parte da Firenze per raccontare la funzione dell'arte, l'appuntamento Generazione Bellezza dedicata alle meraviglie italiane andrà in onda domani sera su Rai3 alle 20.15, l'ultima puntata della stagione La bellezza della mente parte proprio da Firenze per attraversare Roma e Bassano del Grappa. Andiamo avanti sempre con i titoli che riguardano anche la città e il turismo, due storie, la prima è il caso simbolo, la parabola di Via Fiume, siamo in una strada che praticamente è vicina alla stazione di Firenze Santa Maria Novella, una strada senza identità, qui ormai solo alberghi, spiegano ovviamente gli esercenti. La città ha cambiato pelle ad accendere allo spopolamento, alle chiusure, al traffico, alle penalizzazioni. Dal 2010 al 2020, con l'avvento delle locazioni turistiche, il centro ha perso quasi 2.000 residenti. E poi la storia di, ovviamente, Paola Pacchi, una delle ultime residenti, io, ottantenne, nel palazzo degli Airbnb, accerchiata, studenti, tutti sfrattati, sono solo e soltanto i turisti, racconta Paola Pacchi. Quando torno a casa, so già che contrerò sempre nuove persone, a volte sono educate, altre volte meno. Alcuni vecchi proprietari sono morti e i figli hanno scelto di mettere le case a reddito. Siamo ovviamente ai temi che riguardano anche l'ambiente. Pagina 4 della Nazione di Firenze di oggi, scudo verde e nastri, partenza soft nel 2024, ma i sindaci chiedono un protocollo comune, primo vertice fra i sindaci della città metropolitana. Nardella assicura nella prima fase di monitoraggio nessun pedaggio, l'avvertimento dal Mugello, non si può usare l'accetta per far pagare. E poi vedete sempre sulla stessa pagina della Nazione la schiarita su Franchi, incontro comune e società, il Ministro Fitto riferisce in Senato, parole d'ordine, serietà e responsabilità. Quindi questo per quanto riguarda il progetto del Franchi, ma anche per quanto riguarda ovviamente l'interlocuzione tra Fiorentina e Franchi sulla nuova concessione per l'utilizzo dell'impianto. Siamo a pagina 5 della Nazione, sempre di Firenze, diesel al canto del Cigno, le ibride vanno a Ruva e superano la benzina, l'elettrico non decolla. Il mercato dell'auto in città è in profonda trasformazione, la coppiata termico-elettrico piace sempre di più ai fiorentini, la rivoluzione delle vendite è iniziata dopo la pandemia. Eccoci qua, il mercato delle auto in città, le auto ibride immatricolate in città erano 848 nel 2019, adesso sono state 4099 nel 2022, le auto diesel erano 3614 nel 2019, sono 2036, le auto benzina immatricolate in città 3410 nel 2022. Questi sono i numeri per quanto riguarda le immatricolazioni a Firenze. Poi i controlli dall'alto, la tecnologia e la sicurezza, droni anche per gli incidenti, ricostruzione in 3D degli scontri e controllo degli abusi edilizi. Le novità presentate da Palazzo Vecchio punta a diventare operativa entro fine anno e il sindaco Nardella non cominciamo a dire che sarà il grande fratello, non è così, questo spiega il quotidiano la nazione. E poi la festa della polizia, i minori, boom di reati, una denuncia al giorno, aumentano le rapine e le estorsioni sessuali. A Palazzo Vecchio è stato celebrato il 171esimo anniversario della polizia con ovviamente anche i numeri del crimine. Bisogna continuare a lavorare sulla movida, una certa movida, quella sconsiderata e alcolica, spiegano ovviamente dalla polizia di Stato. Proprio sulla festa della polizia ci vediamo il servizio di Toscana TG che è il numero 5 regia. Grazie. Si celebra anche nel capoluogo toscano il 171esimo anniversario della fondazione della polizia di Stato. Il questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma ha rivolto i suoi migliori auguri a tutte le donne e gli uomini della polizia di Stato e ha fatto un bilancio dei reati registrati negli ultimi anni. Dopo una diminuzione generale dei reati del meno 21% negli ultimi 4 anni lo scorso anno rispetto a quello precedente ha registrato un lieve aumento dei fenomeni criminali nella provincia del più 4,7%. Emergenti fenomeni sociali circoscritti tuttavia nei confini della microcriminalità come ad esempio le rapine in strada tra minori. Il trend sembra per oggi a riprendere la giusta direzione nei primi tre mesi del 2023 nei quali si registra una diminuzione dei crimini nella provincia del meno 7,6% se confrontati con quanto registrato tra gennaio e marzo dell'anno precedente. Rispetto al 2021 lo scorso anno sono diminuiti i furti un meno 2% e le rapine un meno 34% in appartamento mentre sono invece aumentate le altre rapine più un 65% con una particolare incidenza di quelle in strada. Stiamo registrando dei campanelli d'allarme anche l'aumento della disperazione sociale sicuramente è un dato che fa riflettere per quanto riguarda la microcriminalità credo che però la risposta della Polizia di Stato in tutte le sue varie anche specialità che sono presenti sul territorio sia all'altezza della situazione e c'è richiesto di fare di più e noi siamo pronti a questa scommessa. Andiamo avanti ancora con i titoli di oggi siamo sulla Repubblica di Firenze l'apertura vedete il governo vuole il CPR toscano ipotesi coltano e pesce a immigrazione sul centro di impatri il PD si divide 50 associazioni si schierano contro un'ex struttura militare di proprietà demaniale a Coltano Pisa un'area sempre in mano al demanio a massa molto meno probabile l'area ferentina che anzi viene al momento ritenuta improbabile sebbene non è tutto esclusa e sebbene proprio Campio Bisenzio con l'area ex Angar zona indicatore fosse già stata individuata in passato ai tempi del governo Berlusconi come idonia la caccia al luogo che potrebbe ospitare il CPR in Toscana è già ricominciata ma su questo non c'è in realtà un'unità chiara e precisa della maggioranza politica che governa la Toscana ci vediamo il servizio di Toscana TG che è il numero uno regia grazie dall'inizio dell'anno ad oggi gli sbarchi di migranti in Italia hanno toccato quota 30.000 persone contro le 7.000 8.000 dello stesso periodo dell'anno scorso e con l'arrivo dell'estate i numeri sono destinati a crescere vorticosamente di fronte al fenomeno il governo ha deciso ieri di dichiarare lo stato d'emergenza che consentirà procedure più snelle e meno controllate per la gestione dei migranti il fenomeno investe ovviamente anche la Toscana dove arrivano circa 150 persone a settimana per un totale di 8.000 individui oggi accolti nei casse e nei centri SAI nei giorni scorsi una lettera del ministerio invitava i prefetti a trovare nuove strutture ma per il presidente di Anci Toscana Biffoni il combinato di diversi fattori rischia di compromettere il sistema i posti sono finiti non è che sono esseri umani non è che si moltiplicano all'infinito ci vogliono operatori ci vogliono tenti sopra la testa ci vogliono persone preparate e serie che gestiscono questi flussi poi in tutto questo tante associazioni che hanno sempre fatto accoglienza dicono io con queste risorse non lo faccio perché è proprio più di un'operazione di fortierato niente di più e niente di meno adesso siamo accoglienza allo stremo la questione è approdata nei giorni scorsi anche in consiglio regionale anche se sotto forma di una discussione laterale quella sul CPR il centro per il rimpatrio con una mozione della consigliera Elisa Tozzi appoggiata dalla destra che ne ha chiesto l'immediata costruzione un punto su cui il PD regionale si è schierato contro in linea anche con la posizione netta del neosegretario del PD toscano Emiliano Fossi una terza via o meglio una posizione più concreta che ideologica è quella che invece chiedono i sindaci Biffoni ma anche Nardella che ci tiene però a fare distinzione il centro per il rimpatrio dovrebbe servire soltanto per allontanare coloro che si sono macchiati di delitti senza che all'interno vi finiscano migranti che sono in attesa di un permesso di soggiorno o anche che non possono ottenerlo ma non hanno partecipato all'attività criminali rispetto alla decisione del mio partito ha detto Nardella purché si affronti il tema in modo concreto se ci sono strumenti politiche proposte che siano migliori del CPR dal punto di vista dell'efficacia dell'intervento per il rimpatrio ovviamente nel pieno rispetto dei diritti umani e delle leggi italiane ed europee beh credo che questo che questa cosa bisognerebbe tirarla fuori ecco io prima di arrivare a prevedere nuovi CPR in generale in Italia ne cambierai la natura vorrei vederli diversi da quello che sono sostanzialmente oggi con stati sostanzialmente detentivi di immigrati che lì vengono portati per il rimpatrio li vorrei vedere più vicini al concetto di centro di accoglienza anche se coloro che sono arrivati si sono responsabili di reati e conseguentemente devono essere riportati da dove vengono perché anche la forma rieducativa che in qualche modo di fronte al primo approccio in Italia ci può caratterizzare dovrebbe vederli come centri dotati di quelle caratteristiche di assistenza sociale di recupero a attività di utilità sociale andiamo avanti ancora con Repubblica Firenze il tema riguarda il piano della regione sulla difesa del suolo e sulla siccità arno argini più alti con ringhiere di metallo e spallette mobili per la difesa del suolo verranno investiti 60 milioni per complessivi 23 interventi finanziati con il PNRR i principali in centro a Firenze nel Pistoiese e ad Arezzo altri fondi sono in arrivo per prevenire frane ed erosione costiera e poi vedete all'interno parla anche l'assessore dell'ambiente Imonia Monni siccità in alcune zone siamo ai livelli critici di luglio non è ancora chiara la figura del commissario voluto dal governo sarà positiva se semplificherà la catena di comando e ovviamente si spiega anche un dato principale sono in fase di progettazione nuovi invasi la crisi idrica la siccità non si gestiscono solo con gli invasi ma con tutta una serie di interventi che oltre a creare disponibilità idrica gli invasi appunto consentono un'efficiente distribuzione dell'acqua e possibilmente anche un riuso come Toscana con la delibera regionale del 1104 del 2022 abbiamo approvato l'elenco di tutte le proposte progettuali necessarie per gestire correttamente la crisi idrica anche in situazione di crisi siamo pronti ad una interlocuzione con il governo e a valutare insieme quali siano le proposte per far partire il prima possibile poi sempre all'interno ovviamente del quotidiano La Repubblica siamo all'allarme il rapporto sul Cheo con l'umidità elevata produce cromo i risultati dello studio coordinato dall'Università di Pisa su rifiuti tossici sparsi in 13 siti toscani secondo l'Istituto di Sanità si tratta di un composto cancerogeno sinistra italiana parla di una bomba ecologica ci fermiamo per dare lo spazio alla regia torniamo tra poco ancora con Refresh con tutte le notizie di oggi restate con noi crescita accoglienza e valorizzazione delle capacità di ognuno le parole d'ordine che ogni giorno guidano la nostra passione perché fare del bene è la vera felicità di cui il cuore umano può godere aiutaci ad aiutare dona anche tu il tuo 5x1000 alla Fondazione Opera Santa Rita come stai tu 730? l'ISEE? il modello redditi? tutto complicato? ti viene l'ansia? rilassati al CAF della CSI and Partners a Prato e a Firenze curiamo l'ansia e la dichiarazione dei redditi al CAF della CSI troverai personale esperto per ogni tua esigenza nel fiscale ai prezzi più bassi del mercato modello 730 da 33 euro senza obbligo di iscrizione per i nuovi clienti sconto del 15% CSI and Partners curiamo l'ansia da dichiarazione dei redditi nelle strutture sanitarie odontoiatriche Iris eseguiamo cure per salvare i denti o se troppo tardi sostituirli con l'implantologia osteointegrata grazie alla pluriannale esperienza del dottor Cesare Paoleschi in chirurgia dentale effettuiamo riabilitazioni di gravi atrofie con le più sofisticate tecniche chirurgiche come gli impianti zigomatici i centri Iris sono in Toscana e Liguria Estra sostiene le start-up del mondo digital and energy la Multi Utility ha infatti lanciato con Nana Bianca e Startup Italia la quarta edizione di E-Cube il progetto che valorizza giovani imprese digitali ed energetiche anche Estra con Centria società di distribuzione del gruppo è partner del progetto Smart Hydro Grid per l'uso dell'idrogeno nell'integrazione delle reti elettriche e gas che prevede un impianto pilota ad Arezzo lavoro in corso per la metanizzazione del capoluogo del comune aretino di Civiterna in Val di Chiana Centria società di Estra sta realizzando oltre 4 km di rete che serviranno ad allacciare 100 utenze più di 1600 classi partecipano a scuole viaggianti il progetto ambientale di Estra per studenti di scuole dell'infanzia elementari e medie di 5 regioni Abruzzo Marche Molise Toscana e Umbria Eccoci qua gentili telespettatori di nuovo buongiorno e bentrovati a Refresh abbiamo già letto i quotidiani nazionali con le notizie principali dall'Italia e dal mondo adesso siamo sulla rassegna stampa locale buona giornata a tutti da Andrea Vignolini è giovedì 13 aprile 2023 la prima pagina del Corriere Fiorentino il titolo di apertura è il folle business dei parcheggi un centro in centro un box auto può essere venduto a 200 mila euro è una cifra pazzesca alle stelle anche i prezzi degli affitti in strada sempre meno posti e sempre più sosta selvaggia la gente immobiliare cifre pazzesche perché sono merce rara e intanto si domanda al Corriere Fiorentino a 10 giorni dal 24 aprile data dello stop agli Euro 5 chi si dovrà fermare a 10 giorni dallo stop non si sa questo spiega il Corriere Fiorentino a centro pagina è poi una notizia che riguarda lo sport bis di Coppa Scandici nella storia della pallavoro un anno dopo la Challenge la Savino del Bene conquista la CEV un 3 a 0 secco che non ammette repliche e Scandici si come si consegue anche la Coppa CEV questo per ovviamente la vittoria senza affanni sull'Alba Blai già battuta all'andata della finale poi ancora il parcheggio Miraggio diventa un tesoro box auto venduti a prezzi d'appartamento i garage costi alle stelle in Santa Croce chiesti 200 mila euro per 18 metri quadrati inoltrarno 110 mila euro nelle strutture private sempre prezzi più salati fino a 400 euro al mese per un posto auto e poi la domanda che si pone giustamente Mauro Bonciani a 10 giorni dallo stop degli euro 5 che si dovrà fermare Palazzo Vecchio spiega che i divieti saranno progressivi ancora avanti con ovviamente i titoli che riguardano Firenze siamo all'interno a pagina 5 del Corriere Ferentino un'altra parete verde si è seccata dopo quella di Viale Giovane Italia anche alle piagge l'edificio di Casa Sparri coperto tre anni fa con l'inverte verticale ora le piante saranno sostituite non hanno retto al grande caldo spiega il quotidiano il Corriere Ferentino che poi racconta una storia che riguarda l'abbazia di Montecuccoli siamo nel Mugello cercasi Monaco per un mese tanti i candidati in fuga dalla città l'aspirante Melani ci andrei subito e ci resterei anni mi sembra un luogo di pace meraviglioso e vedete nella foto uno dei monaci che vivono all'abbazia di Montecuccoli impegnato nell'accudimento delle capre ma cerchiamo di scoprire di più su questa notizia lo facciamo grazie al servizio di Toscana TG che è il numero 9 regia grazie se è stressato vuoi stoppare la routine quotidiana almeno per un po' e staccare la spina dal lavoro famiglia o ciò che non ti soddisfa più in cerca di qualcos'altro all'abbazia di Montecuccoli dei cristiani orientali nel comune di Barberino del Mugello dove si insegna l'esicasmo trascendentale arriva l'iniziativa Monaco o Monaca per un mese un'esperienza unica aperta a tutti ma non per tutti quella della vera vita dei monaci si richiedono tempi scanditi dal lavoro e preghiera per un minimo di un mese nel periodo da maggio a ottobre condividere gli spazi e il lavoro con gli altri avere la volontà di lavorare sei ore al giorno per sei giorni la settimana nelle mansioni più umili come accudire gli animali svolgere pulizie piccoli lavori di agricoltura e cucina avere uno spirito di iniziativa e adattamento essere alla ricerca spirituale e accettare di mangiare vegetariano sono già in tantissimi i curricula arrivati al monastero i profili selezionati verranno poi contattati per un ulteriore colloquio tramite video cerchiamo una personalità con un sorriso radioso fanno sapere i monaci dalla loro pagina facebook dove l'esperienza è un vantaggio ma non un obbligo si offre vitto alloggio e direzione spirituale tra le qualità richieste talento organizzativo amare in modo incondizionato gli animali e consapevolezza di trovarsi in un luogo religioso ma anche in un cantiere in movimento perché ognuno contribuisce alla ricostruzione dell'abbazia un luogo ascetico ma anche al passo con i tempi c'è facebook e si può usare il cellulare le 7 e ovviamente questo è il servizio per quanto riguarda l'abbazia di Montecuccoli e la ricerca di un diciamo così di una persona che in questo momento può fare svariate attività come spiegato nel servizio di Toscana TG all'abbazia andiamo avanti invece con la rassegna stampa sportiva vedete ripartiamo dalla prima pagina del Corrierello Sport Stadio vola viola vola è il titolo 26 gol in 10 partite a Poznan questa sera alle 21 per ipotecare la semifinale la Fiorentina apre i quarti di finale di Conference League ne parliamo con Gianmarco Lucchellini conduttore di A tutto gol del sabato relazione sportiva di Toscana TG ben trovato Gianmarco buongiorno ciao Andrea buongiorno buongiorno a te allora siamo all'interno del quotidiano Corrierello Sport Stadio la Fiorentina ci crede adesso viene il bello italiano non fermiamoci e mettiamo la ciliegina sulla nostra stagione attenzione all'approccio l'ambiente che ci aspetta è molto insidioso allora italiano ieri presentando la partita in conferenza stampa si è detto da un lato preoccupato della partita ma più per una questione ambientale magari sui tifosi del Poznan che spingeranno forte la squadra e poi di fatto ha fatto capire in modo molto chiaro che il turnover sarà minimo perché ha spiegato che adesso ormai ha un gruppo di giocatori diciamo su cui fa affidamento e sì se cambia qualcosa cambierà qualcosa ma insomma molto meno rispetto a quello a cui ci aveva abituato in passato Gianmarco su questi primi due spunti sì Andrea guarda tutti i concetti che lui ha ribadito ieri in conferenza stampa ma che aveva già ribadito in mattinata direttamente alla squadra durante l'allenamento di rifinitura al centro sportivo Davide Astori ecco scusate l'incursione non ci sono problemi Tiffany ecco anche lei ovviamente ha assistito ieri all'allenamento a porte aperte i primi 15 minuti dalle 10.45 alle 11 grande clima volti distesi sicuramente non può essere diversamente dopo la striscia positiva tanta voglia di scherzare e proprio durante il riscaldamento lo stesso italiano ha dovuto richiamare i calciatori proprio con le parole che poi ha ribadito in conferenza stampa la sera a Poznan e quindi attenzione ragazzi ci aspettano delle ore di fuoco non abbassiamo la guardia ricordiamo Andrea che a Linea Stadion di Poznan con 43.000 spettatori la Fiorentina troverà stasera una bolgia quindi in questo momento la priorità di italiano è assolutamente quella di scongiurare qualsiasi tipo di calo di tensione lo ha ribadito ieri più volte alla squadra ha scherzato quindi carota e bastone però ecco la sensazione è che questa sia l'alba che si affaccia su forse la giornata sulla giornata più importante fino adesso della stagione della Fiorentina e da qui passa gran parte della stagione della Fiorentina stasera a Poznan perché un risultato positivo laggiù consentirebbe non dico di ipotecare però di tornare a Firenze tra una settimana con molta più serenità no turn over l'hai detto bene tu l'italiano ha trovato ha trovato i suoi meccanismi ha trovato una squadra che è sbocciata nel giro di qualche settimana complice anche le scelte probabilmente conservative dare fiducia al centrocampo alla coppia che oramai è inossidabile ed è sempre quella Mandragora Amrabat ha trovato i gol davanti di Cabral ecco quindi in questo momento per quale motivo fare il turn over quando hai una rotativa che già funziona e per ora sta girando bene l'altro tema ieri ha parlato Nico Gonzales ovviamente in conferenza stampa vedete sul quello dello sport stadio Gonzales taglia corto dobbiamo dare la vita ora nessuno chiede a Gonzales di dare la vita per la Fiorentina no quello che chiediamo però a questo giocatore è di innanzitutto di trovare continuità nelle sue prestazioni perché questa stagione non l'ha mai trovata per tante ragioni il mondiale poi l'infortunio poi il ritorno non si è mai capito in realtà come stava e soprattutto questa sera chiediamo a Gonzales che è il giocatore che la Fiorentina nella sua storia ha pagato di più di fare una grande partita senza alibi glielo chiediamo sono le gare di questi di for class sono le gare ora in un senso mutatis mutantis nel senso Andrea il Lec Poznan è una squadra sicuramente temibile qualche giorno fa abbiamo sentito lo stesso Alessio di Petrillo ex vice allenatore della nazionale polacca agli ultimi mondiali di Qatar 2022 proprio da tutto gol e ci dava un ritratto di una squadra sicuramente temibile però ecco Andrea ricordiamo che comunque si tratta di una squadra con un valore della rosa ampiamente inferiore a quello della Fiorentina quindi sì è una partita importantissima e in queste partite bisogna che la zampata ce la mettano in fuori classe Nico González viene da una stagione con un po' di difficoltà prima la tallonite le polemiche a dicembre con la nazionale argentina però è un ragazzo che ha sempre dato la sensazione di poter dare sempre qualcosa in più che poi per un motivo o per un altro non ha dato la società in questo senso diciamo che non ha nemmeno in un certo senso dato molta la sensazione di volerlo aspettare troppo perché comunque le ali nella Fiorentina ai mercati ogni mercato porta una ala nuova e quindi ecco la sensazione è che è un giocatore che negli ultimi mesi sia stato messo un po' in discussione però attualmente non è così attualmente anche noi l'abbiamo visto in grande forma durante l'allenamento e questo è il momento in cui i fuori classe come lui devono assolutamente dare la sua grande occasione allora vediamo anche le formazioni secondo il Corriere dello Sport Stadio con Fiorentina che dovrebbe giocare con Cabral davanti Terracciano tra i pali Milenkovic i gol coppia centrale Biraghi Dodò Ambrabat Mandragora Barac a centrocampo Gonzales e Saponara sugli esterni vedremo se sarà questa o meno la formazione velocemente anche i titoli che leggiamo negli altri quotidiani il Corriere dello Sport Stadio il Corriere Fiorentino parla di esame di maturità conference la Fiorentina stasera a Poznan per l'andata dei quarti di finale della Coppa italiano per noi l'ennesima verifica Nico vale tanto è bello giocare certe gare e poi anche qua formazione diciamo che viene assolutamente confermata identica a quella del Corriere dello Sport Stadio andiamo anche all'interno del quotidiano la nazione con ovviamente il titolo conference prove di volo Fiorentina in campo a Poznan per l'andata dei quarti c'è la foto ovviamente di Cabral notte di conference e di brividi Fiorentina ha tanta voglia di sognare stasera alle 21 per l'andata dei quarti di finale il Lec è una squadra dura ma non imbattibile l'obiettivo è strappare subito un buon risultato per esettare quasi la gara di Torno del Fran che anche qua la formazione è identica a quelle precedentemente lette italiano che dice in quadra la sfida ci aggrediranno subito il tecnico ha studiato la squadra polacca e il pubblico sarà assillante poi quei 500 cuori viola in tanti sul volo di linea stamani in direzione Poznan spiega la nazione 500 tifosi a seguito della squadra per quanto riguarda la formazione la scelta di Barac a centrocampo e fare una scelta appropriata perché Barac è tra i centrocampisti della Ferrentina quello che ha più propensione per trovare la porta per trovare il gol Gianmarco Sì assolutamente un giocatore che quando è arrivato da Verona è arrivato insomma con i favori della critica un giocatore che ha sempre dimostrato di saper fare di saper fare bene quella parte del campo lì a Verona era uno dei punti di riferimento della squadra veneta e qualche settimana di difficoltà all'inizio però questo è un ragazzo che tecnicamente anche come disciplina tattica può fare la differenza là davanti e può in questo senso come stasera può essere decisivo alle spalle di Cabral quindi sicuramente la ponderazione della scelta di italiano questo vada in questo senso anche nel senso di trovare subito avere la necessità subito di patrimonializzare laddove fosse possibile le occasioni da gol di stasera sarebbe importantissimo riuscire a andare a segno chiudiamo e commentiamo con te invece il successo della Savino del Bene a Scandicci perché questo è un altro grande successo per il volley femminile e vedete siamo all'interno del Corriere Fiorentino Scandicci che storia dopo la Challenge l'anno scorso si prende anche la Cev la Sabino batte l'Alba e vince un'altra coppa europeo l'anno scorso il club si è giudicato la Challenge Cup terzo d'offere europeo per importanza quest'anno la Cev questa vittoria è un premio per queste ragazze che hanno ancora più valore visto il nostro secondo posto in campionato a merito della società e dei suoi sforzi ha spiegato il coach Barbolini peraltro tu ogni tanto a tutto gol dai spazio ovviamente alla Savino del Bene questa è una grande vittoria per Scandicci e la Savino del Bene assolutamente il secondo anno consecutivo con una grande vittoria europea l'anno scorso la Challenge Cup quest'anno la Cev ancora più importante quindi si va sempre più su il prossimo anno chissà non poniamo limiti alla provvidenza la serata di ieri è stata una serata bellissima Andrea è partita subito come una grande festa perché diciamolo i ragazzi di Barbolini dopo la semifinale con il Thai Istanbul e i quarti di finale con lo Schwerin avevano già dato la sensazione di aver ipotecato questa Cev Cup le vere finali sono state i quarti di finale e in semifinale con le Rumene tantissimo onore per le Rumene però ecco la superiorità della squadra delle ragazze di Barbolini è emersa subito già l'andata con la finale vinta 3 a 1 dalla Savino del Bene ieri subito l'atmosfera è parsa subito di festa e di celebrazione quindi un 3 a 0 che non ha lasciato adito alcun tipo di replica un'antropova MVP del match è sensazionale però una squadra questa che quest'anno ha dato veramente grande prova di sé e che adesso dovrà continuare per portare per tentare di portare a Scandicci il titolo di campione d'Italia non sarà facile perché nei playoff sappiamo benissimo che c'è la killer conegliano che è suole ed è solita ammazzare ogni tipo di velleità altrui e sarà veramente bello eccitante vedere anche seguire anche i playoff della Savino del Bene nella speranza che le ragazze di Barbolini chissà riescano magari anche ad andare più avanti possibile e chissà magari anche a portare qualche sorpresa ulteriori sorprese a Scandicci Barra è bruttissimo Scandicci trattino Firenze perché poi ricordiamo Savino del Bene e Pisonte sono le squadre di Firenze della città metropolitana e così mettiamo d'accordo tutti grazie a Gianmarco Luccherini grazie mille e ovviamente buona giornata grazie di cuore buona colazione grazie andiamo avanti con i titoli dei quotidiani locali lo facciamo anche con i titoli del quotidiano il Tirreno siamo a Livorno lungo mare entro 15 giorni via una parte degli stalli blu l'assessore assicura il centrodestra insorge ci avete escluso ma non si sa ancora quali saranno resi bianchi nel tratto Bellana-Barriera Margherita-Cepparello c'è un confronto e poi d'Arsen Europa c'è l'ok di Pisa ma spuntano 10 osservazioni questo per quanto riguarda il nuovo porto di Livorno tra le prescrizioni del Comune e la difesa dei fondali alla Fucce dell'Arno siamo invece sul Tirreno con ovviamente le notizie che arrivano da Firenze e allarme baby gang in città crescono rapine tra minori il questore controlli raddoppiati avanti in questa direzione poi siamo sempre sui temi che riguardano ovviamente in questo caso il Franchi avanti tutta con la concessione verso un maxisconto da mezzo milione e agli sgocceli l'accordo per la stagione 23-24 la viola restituirà il centro a stori e gli uffici restano da stabilire i termini dell'accordo post-lavori all'impianto dalla durata al costo poi ancora sempre all'interno del quotidiano il Tirreno giallo sul cadavere trovato a Livorno la vittima un fiorentino di 76 anni il corpo in mare da diverse ore e nello zaino c'erano 13 chili e mezzo di sassi identificato grazie alla carta d'identità che aveva addosso potrebbe essere finito lì portato dalla corrente e vedete ovviamente la storia di questo di Giovanni Maria Manca che aveva 76 anni era originario di Palau ma viveva da tempo a Firenze e ovviamente a ritrovare gli uomini coordinati da Luciano Lupi vice dirigente della polizia di frontiera marittima di Livorno poi un dato che riguarda Firenze e l'impresa non è una città per donne manager solo una su cinque guida un'azienda appena il 22,6% delle imprese fiorentine è rosa il peggior risultato in Toscana siamo a Prato la villa che nessuno vuole la dimora filicaia ex casa di riposo è abbandonata da oltre 20 anni e cade a pezzi l'asla ha provato a venderla ma nessuno si presenta all'arma del comitato area pratese poi siamo invece a Poggio Accaiano i volti della città con palandri pochi politici molta società civile insegnanti volontari professionisti ecco chi sono i 12 candidati del centro-destra viabilità e rapporto diretto con i cittadini al primo punto del programma andiamo avanti sempre con i temi che riguardano ovviamente Prato in particolare lo striscione no gender al liceo che consente l'uso degli alias gli insegnanti hanno presentato denuncia soprattutto sopra il luogo dei carabinieri vedete lo striscione attaccato davanti al liceo Livi Brurelleschi padre perdona loro perché non sanno quello che fanno stop gender il titolo dello striscione poi ancora rifiuti siamo a notiziediprato.it sito molto seguito e apprezzato rifiuti per le aziende e le famiglie pratesi confermata la stangata aumenti dal 3 al 7% le imprese maggiormente colpite la carenza di impianti per lo smaltimento in Toscana fa crescere i costi che si ripercuotono poi sugli utenti siamo a Empoli invece con il tema del gasificatore torna l'ombra del gasificatore la sindaca parla di ipotesi esclusa il comitato trasparenza per Empoli già pronto a riprendere la battaglia ci stiamo coordinando con tutta la Toscana stavolta saremo molti di più spiega il quotidiano il Tirreno siamo a Grosseto 19 asili nido gratuiti le domande partono a maggio i genitori potranno risparmiare fino a 5.800 euro in 11 mesi e vedete ovviamente i nidi convenzionati alcuni in questa foto poi siamo a Lucca dove il bando per l'accoglienza è un flop la prefettura riceve solo un'offerta la programmazione dello stato di emergenza renderà più snelle le procedure poi siamo ancora a Lucca con l'allarme di Coldiretti sui lupi è un problema che non viene gestito Lega e Fratelli d'Italia chiedono interventi in particolare richiede anche Fabrizio Filippi presidente regionale di Coldiretti siamo a Pistoia tornerà a vivere entro tre mesi la storica palazzina a Coppedè dopo tanti ritardi indirittura d'arrivo i lavori di recupero a Montecatini attività non termali sospese nel limbo della liquidazione dalle panteraie al tennis torretta la lista e il valore degli immobili ancora avanti con i titoli che riguardano ovviamente Piombino sindacati convocati a Roma si reale per il tavolo sulle acciaierie a distanza di un anno l'incontro al Ministero delle Imprese siamo a Lerma dove la grandine rovina i vigneti verifiche ai germogli delle viti dopo il maltempo agricoltura messa a dura prova c'è chi teme da minore produzione di uva e quindi del pregiato vino doc andiamo avanti anche con i titoli che riguardano ovviamente sempre la Toscana e le città siamo anche sulla prima pagina del quotidiano la Nazione di Arezzo l'apertura migranti i centri al tutto esaurito in tre mesi tanti arrivi quanto in tutto il 2022 450 gli ospiti complessivi la prefettura cerca nuovi spazi e poi la banda del buco all'assalto dell'oro tre colpi di fila in aziende vicine casseforti aperte bottino sui 100.000 euro siamo a Empoli cibo sano e sostenibilità al parco di Serravalle debutta agricoltura in festa e poi ancora sempre all'interno del quotidiano della Nazione con questa notizia che arriva da Prato RSA più care rivolta con mille firme mobilitazione guidata da sindacati e pensionati per chiedere nuovi aiuti da destinare alle famiglie per quanto riguarda l'aumento delle rette delle RSA delle residenze sanitarie assistite per gli anziani ci fermiamo qua per questa puntata di refresh torniamo puntuali come sempre domani mattina a partire dalle 6.50 da Andrea Vignolini a tutti voi l'augurio di una felice giornata Ale